Una variante pronta, accordi di programma firmati con la provincia, soldi già stanziati, eppure il progetto di riqualificazione del quadrilatero alla porta ovest della città tra Villa Gioia e l'area di Santa Croce e Porta Barete resta in alto mare. Finisce di nuovo in un botta e risposta tra nuove e vecchie amministrazioni cittadine al progetto che prevedeva, nelle intenzioni della passata giunta, la rimozione del ponte di via Vicentini e il recupero della cinta muraria a ridosso di viare della Croce Rossa. Il programma di recupero prevede di ricostruire tre immobili al posto dei sei esistenti e rientranti nella ricostruzione post-sisma del 2009 e che sono stati costruiti negli anni Ottanta a ridosso delle mura. Il progetto preliminare prevede, tra le altre cose, la scomparsa del terapieno di via Roma, percorsi pedonali con verde pubblico e parcheggi. Un enorme progetto su cui il sindaco Pierluigi Biondi annuncia un concorso di idee che, secondo l'ex assessore alla ricostruzione Pietro Di Stefano, finirebbe per allungare i tempi di realizzazione, con il rischio che lo Stato richieda indietro i 4 milioni di euro già stanziati con delibera cipe. Ho letto invece che si vuole andare verso un concorso di progettazione. Qui significa riportare tutto indietro nel tempo. Nel frattempo ci lamentiamo che la città non venga ricostruita nella parte pubblica, creando esso un notevole disagio al contesto urbano, però in fin dei conti qui il decisore pubblico che ha tutto già pianificato torna indietro essendo lui colpevole della loro ricostruzione pubblica. Per quanto riguarda Porta Barete c'erano già diversi atti portati avanti, mancava appunto lo studio di progettazione e si rischia di perdere i fondi? Lì c'era soltanto da dare l'incarico di progettazione, quindi una banale gara per un incarico di progettazione, c'è un preliminare avanzato già fatto che è stato frutto della variante urbanistica, c'è il finanziamento, finanziato quello con le delle breccipe come sono finanziati altri progetti. In un'Italia che ha una grande esigenza dei fondi pubblici dove si dice di far ripartire i cantieri, sì, è probabile che il governo valuti che siccome qui i soldi da tempo non vengono spesi, li prende e li porta ad altra parte.